E' finito sul risultato di 8-7 a favore dei padroni di casa il match di Coppa Italia disputato a Lorenzo tra Rende e Montalto. Un pareggio per 3-3 ha sancito la fine del tempo regolamentare. Tripletta di Piemontese per la squadra ospite e reti di Romano, Leta e Russo per i Biancorossi. Si arriva perciò ai rigori che con 5 reti per il Rende e 4 per il Montalto decretano la vittoria degli uomini di Mister De Angelis con l'importante contributo del portiere greco che si è distinto per due parate fondamentali nella lotteria dei calci di rigore. Un match diretto senza problemi dal signor Nicoletti di Catanzaro scivolato via senza grossi scossoni con la sola espulsione dell'ex Cosenza Morelli unico a pagare Dazio. Sorridono entrambi i tecnici a fine partita e i loro ragazzi si sono espressi bene e hanno mostrato carattere in un match in cui il caldo asfissiante avrebbe potuto inficiare ed anche di molto la prestazione. Un test fondamentale quello che si è consumato a Lorenzo e che ha dimostrato le potenzialità di due compagini apparse pronte per il fischio d'inizio del campionato che le vedrà entrambe protagoniste. Tornando alla Coppa Italia passa dunque il turno in Rende a cui toccherà la sfida successiva contro la Vibonese in programma domenica prossima a Razza di Vibo Valencia. Grazie a tutti.